Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Rafa ha conosciuto sua moglie Gabriella circa 30 anni fa e, da allora, non si sono più lasciati La coppia è infatti più innamorata che mai.Chi è la donna che ha conquistato il cuore del cantante e come si sono conosciuti i due coniugi? Ecco qualche informazione in più su di loro Rafa è sicuramente uno degli artisti più amati del panorama nazionale italiano e, grazie alla sua musica, ha saputo conquistare i cuori di migliaia di persone in tutta Italia Il suo talento ha infatti subito fatto breccia nei cuori dei fan, e numerosissime sono state le hit di successo del cantautore L'artista è oggi legato sentimentalmente alla moglie Gabriella Labate, con cui sta vivendo ormai da molti anni una bella e intensa storia d'amore Sono circolate in rete alcune informazioni su come i due si siano conosciuti e su come stia procedendo la loro relazione Come si sono incontrati Gabriella e Rafa.Rafa e Gabriella Labate si sono conosciuti nel 1996 e, dalla loro relazione, sono nati i due figli Bianca e Samuele I due si sono sempre mostrati molto innamorati e i fan si sono chiesti spesso come i due si siano incontrati Nel corso di una recente intervista, la Labate ha svelato qualche dettaglio in più sull'inizio della loro storia Ci siamo incontrati in una trasmissione, ha infatti detto lei, lui cantava e io ballavo La stessa ha svelato che il loro è stato un incontro vero e fatto di sguardi Inizialmente, lui le era sembrato antipatico, ha continuato Gabriella, perché mi sembrava un altro tipo di persona Poi ho capito com'era davvero, ha dichiarato la donna svelando anche di non essersi mai recata a quella cena e di aver lavorato fino a tardi Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, ha infine concluso lei, lui non c'era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera È iniziata così la storia d'amore tra lei e l'amatissimo cantante Raph, che ha in seguito portato entrambi a pronunciare il fatidico sì e a iniziare un percorso di vita insieme Oggi sono più innamorati che mai, l'Alabate sarà ospite nel salotto televisivo di Domenica Inn, il celebre talk show di Mara Venner, per raccontare un po' della sua vita privata e lavorativa Ma chi è Gabriella? È alta a Roma nel 1964, ed è una celebre showgirl, cantante e coreografa Ha infatti iniziato frequentando una scuola di danza gestita da Renato Greco e Maria Teresa del Medico, e da lì è stata notata per intraprendere un lungo percorso nel mondo dello spettacolo Si sono così susseguiti diverse sue esperienze in ambito televisivo Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti